A Torre del Greco si è registrato un nuovo boom di guarigioni nella giornata di ieri. Sono 103 i nuovi guariti e 21 i nuovi casi di positività al Covid-19, di cui due soggetti sotto regime ospedaliero e di restanti 19 in isolamento domiciliare. Muta dunque il bilancio dei contagiati con 888 positivi, di cui 24 gli ospedalizzati, 1032 guarigioni e 42 decessi. Sono 39 i nuovi positivi registrati ieri a Castellammare di Stabbia, di cui solo 8 presentano sintomi lievi. Tra i nuovi positivi è accertata la presenza di alcuni giovani, 4 bambini tra i 4 e i 9 anni e 5 ragazzi tra i 15 e i 16 anni. Un cittadino stabiese è risultato guarito dal virus. Si tratta di un 93enne che ha effettuato doppio tampone con esito negativo. Nella settimana compresa tra i giorni 20 e 26 novembre si è registrato un numero di tamponi effettuati ai cittadini di Portici pare a 2.105 con un esito di 242 nuovi contagiati e 324 nuovi guariti con una percentuale di positivi sul numero di tamponi dell'11,4%. Dati che si aggiungono al bilancio totale di Portici, nella quale risultano in isolamento domiciliare alla giornata di sabato 28 novembre 519 cittadini.